Buongiorno a tutti. Come avete visto dall'immagine del Codex Aureus di Norimberga, il Vangelo di oggi ci narra l'episodio dei Dieci Lebrosi. Così come la prima lettura ci parla di un altro nebroso, quello di Naman il Siro, che viene dall'Oriente, da Eliseo, per farsi guarire. Sia l'episodio di Naman, che è quello dei Dieci Lebrosi del Vangelo, hanno all'inizio una situazione di malattia, la lebra o morbo di Hansen, ma che riassume tutte le situazioni di bisogno dell'uomo. Ed entrambe queste situazioni sono sanate dall'intervento del profeta Eliseo nella prima lettura e di Gesù nel Vangelo. E tutti e due questi episodi ci pongono alla vista, alla nostra attenzione, mettono davanti ai nostri occhi, su che cosa sia un cammino di fede, anche sui rischi del cammino di fede. E la prima cosa che dobbiamo chiederci è proprio questa. Qual è la lebra che ci affligge? L'immagine sbagliata di Dio che ci siamo fatti e da cui non riusciamo o non vogliamo liberarci? La paura della morte? L'ansia del vivere? Un dolore come un lutto grave che ci opprime? I nostri difetti, i nostri sensi di colpa o via dicendo. O come avviene nell'episodio di Naman, il nostro conoscere la parola di Dio, ma su cui spesso la vince sempre quello che pensiamo, riteniamo giusto noi. Non c'erano fiumi, dice Naman. Ma c'è un invito, è quello di riconoscersi umilmente peccatori e mancanti. Questa è la via e la porta che apre all'accoglienza della parola sanante di Dio. Però vi dicevo c'è un altro rischio e questo è più evidenziato nella parabola dei dieci lebrosi, quello della non gratitudine. Uno su dieci è la percentuale che ci fa vedere di questo gruppo di lebrosi. Gli altri nove hanno ottenuto quelli che volevano e, come si dice, passata la festa, gabbato lo santo. La fede che ha fiducia e chiede è quella che ottiene la guarigione esterna, ma è la fede che sa dire grazie che ottiene la salvezza. Va alla tua fede e ti ha salvato. E il modo migliore di ringraziare il Signore è dirgli grazie celebrandolo con la vita, perché il cristiano non è colui che chiede delle grazie, anche se è lecito, anche se è comprensibile chiederle al padre, ma è colui che sa rendere grazie con quello che sceglie, che fa ogni giorno, che testimoni in ogni momento della sua vita. Il tornare indietro del samaritano poi dimostra che lui ha capito e sa risalire dal dono che ha ricevuto al donatore che gliel'ha fatto e conserva, credo, nel cuore soprattutto l'incontro che è avvenuto con il donatore e che diventerà la sua ragione di vita. Bene, concludo con parole non mie, ma quelle dello scrittore Gilbert Kate Chesterton, universalmente noto per i racconti di padre Brown, che ha scritto con amare ironia. I bambini sono grati alla Befana che mette nelle loro calze giocattoli e dolci, ma noi ringraziamo Dio ogni giorno per il dono meraviglioso di due gambe da mettere nelle calze? Purtroppo io mi dimentico spesso di farlo. E voi? Buona domenica.